della sua carriera agonistica. Come dichiarerà anni dopo in un'intervista, l'esperienza sportiva le ha insegnato l'impegno e la disciplina. Sono molto severa con me stessa, esigente. Ho imparato il rigore grazie allo sport. Alla fine dell'intervista, Gabriella Pession, che aveva appena vissuto una tragica perdita, ha offerto la chiave del successo del dramma in quanto affronta una preoccupazione universale, la morte e l'aldilà. Dopo la sua morte, ha detto, le sue azioni e il suo lavoro sarebbero sopravvissuti, così come i suoi valori. Ha anche espresso la sua visione personale, che ha definito, come segue, sono convinta che esista un'altra dimensione, non so forse darle un nome, ma non ho una visione materialistica della vita. Sul lutto vissuto, ha dichiarato, essermi trovata sul set, dove bisognava elaborare una perdita e sentire nell'assenza la presenza dell'altro, è stato un viaggio poetico e intimo.